Una battaglia, fantastica no, fantastica no perché l'infortunio dei Signorelli ci ha rattressato parecchio. Una vittoria sicuramente importante, dal punto di vista sportivo è importantissima perché è fatta una vittoria contro la nostra diretta concorrente attualmente, una squadra molto forte, da loro, un campo molto ostico e con una vittoria bella perché tutti quanti hanno dimostrato ancora una volta di essere una grande squadra, si sono messi a disposizione tutti quanti e tutti quanti quelli chiamati in causa hanno fatto molto bene in campo ma anche quelli che non sono stati chiamati in causa hanno aiutato parecchio tutti i compagni di squadra. Abbiamo dimostrato che ancora questi ragazzi in un momento di difficoltà si fanno trovare tutti quanti pronti e buttano il cuore oltre l'ostacolo. Ci dispiace appunto, siamo molto rattestati per l'infortunio di Gianluca che è un ragazzo molto serio che sta lavorando molto bene. Per noi è un grosso peccato, è problematica tecnica perché Gianluca spesso e volte con la sua grinta e il suo carattere trascina la squadra. Però bene anche Dan e poi che è rientrato, che ha fatto il break e tutti quanti sono uniti ancora di più e abbiamo ottenuto questo risultato straordinario.